È un ottimo inizio, c'è molta gente a Palazzo Mezzanotte questa mattina, sicuramente vediamo l'impatto dell'innovazione nell'offerta della Tolexpo, i molti conveni sull'educazione finanziaria, ma anche come sempre la possibilità di incontrare trader, broker online, confrontarsi su strategie di trading e diversi prodotti disponibili sulle diverse piattaforme. Si punta molto alla formazione? Tantissimo alla formazione, è il mese della formazione in Italia e quindi la Tolexpo rientra in un certo senso in questo contesto. Per noi l'educazione è una priorità, investiamo molto e la Tolexpo è uno dei modi nel quale possiamo avvicinare il settore finanziario, i professionisti ai veri trader privati.